salve amici e amiche oggi vi porto alcuni aggiornamenti dal fronte in ucraina dove appunto colgo l'occasione per parlare anche del mitico carro leggero bradley di altri mezzi come il kossak ucraino parlerò anche mi aggancerò al video di ieri per quanto riguarda l'uah 60 il black hawk che abbiamo visto ieri in foto l'elicottero americano nelle forze speciali ucraine un paio di testimonianze di soldati russi catturati che saranno molto interessanti e quindi iniziamo come sempre ve lo ricordo prima di iniziare se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale è un piccolo gesto gratuito assolutamente fondamentale per aiutarmi a crescere qui sotto al video trovate il pulsante per farlo attivare la campanella lasciare un mi piace questi piccoli gesti sono fondamentali quindi allora dal fronte ci sono novità ancora continuano alcune piccole incursioni da parte ucraina che hanno successo nell'area di toresk dove appunto c'è stata piccole controffensive che permettono agli ucraini di riguadagnare piccole porzioni di territorio qui qui in quest'area queste incursioni sono svolte con piccole piccoli gruppi di uomini la stessa cosa avviene appunto anche nell'area di pokrovsk che poi tra l'altro mi servirà oggi per parlare proprio del bradley tra l'altro ecco c'è questa mappa che mostra meglio la situazione qui nell'area di pokrovsk sulla direttiva principale di avanzata ucraina come vedete in quest'area c'è stato un guadagno di piccola porzione di territorio da parte ucraina e questo assalto è stato fatto proprio con i bradley per la precisione uno che è riuscito a fare fuoco di sbarramento e copertura e ha poi posizionato gli uomini in supporto la storia del bradley è molto interessante fra l'altro proprio facendo delle ricerche mi sono imbattuto in un film che ne parla non so se l'avete visto si chiama la guerra del pentagono the pentagon wars ed è una storia vera un po messa in una sorta di commedia fanta politica anche se poco fanta tanto politica dove appunto parla della storia della storia di del colonnello dell'aviazione james barton che fu incaricato per svolgere i test almeno per supervisionare i test sullo sviluppo di questo mezzo il bradley è nato come sostituto dell'em 113 che è questo mezzo che vediamo in questa foto che era un mezzo leggero degli anni 60 americano che serviva per trasportare truppe non aveva grandi capacità di fuoco se non una piccola mitragliatrice il cui scopo era proprio quello di fare un po da scout e trasportare truppe nello sviluppo del bradley furono coinvolte troppe troppe menti per cui quando i generali si mettono in mezzo come spesso è avvenuto anche in aviazione tutti vogliono tutto sullo stesso mezzo e se il mezzo doveva nascere con l'idea di un mezzo leggero per trasportare truppe a un certo punto i generali cominciarono a dire eh ma metteteci un cannoncino eh ma metteteci un lanciamissile metteteci la corazza pesante mettete fatelo diventare anche anfibio insomma metti 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 e del mezzo leggero trasporta truppe alla fine non è rimasto niente si è trasformato in un carro leggero assolutamente incapace di confrontarsi contro carri pesanti e comunque con una limitata capacità di trasporto truppe quindi la prima versione del bradley si dimostrò completamente al di sotto delle aspettative poco corazzata e assolutamente pericolosa la storia un po del film è questa alla fine lo scandalo venne fuori anche in virtù del fatto che nel frattempo israele ordinava una versione completamente diversa del bradley molto più rinforzata e pesante quindi gli americani dissero vabbè ammettiamo l'errore e cominciamo a produrne una versione decente e infatti gli ucraini hanno proprio quella la m2a che è una versione più corazzata con la corazza reattiva ha una ridotta capacità di trasporto truppe circa sei uomini oppure tre di equipaggio e poi ha la torretta da 25 mm con i lanciatori questo è il tubo che lancia i missili tov che sono missili anti carro poi c'è il line baker che ha anche capacità antiaeree quindi fra l'altro in questa foto vediamo anche delle antenne che servono che hanno la capacità anti drone quindi mi collego al bradley per questo assalto in cui si vede proprio c'è il video che rimanda al video di questo assalto e spero di riuscire a mostrarvelo perché si vede proprio il suo assalto in quest'area di pokrovsk quello che fa appunto fa un fuoco di sbarramento il cannoncino è assolutamente efficace perché cannoncino a tiro rapido e questo aiuta a posizionare le truppe si apre il portello dietro e le truppe escono ci sono diversi video delle azioni dei bradley che sono eroiche addirittura il più famoso probabilmente non so se l'avete già visto è quello di un attacco a un t90 che fra l'altro è raccontato da entrambe le fonti ed è interessantissimo come video proprio perché racconta l'esperienza del comandante del bradley e del cannoniere del del gunner che a certo punto diceva mi ricordo nell'intervista dice mi ero addestrato tanto nei simulatori e a un certo punto quando abbiamo visto il t90 ho iniziato a sparare cercando di colpire le sue ottiche e questo ha avuto successo di fatto il l'equipaggio del t90 è andato completamente in panico tanto da poi finire contro un albero e fermarsi lì ora è un po è semplicistico dirlo così ma provate a immaginare di trovarvi dentro un carro armato e ricevete una pioggia di colpi perché quello del bradley è un cino antidero rapido ok quindi è assolutamente un'esperienza terrificante e ci sono poi altri video di estrazioni avvenute con successo proprio grazie al bradley e insomma tanta roba basta è un mezzo che ha avuto un discreto successo anche da parte americana nella seconda o prima guerra del golfo a seconda delle diciture in cui si confrontò contro gli stessi carri con cui combatte oggi t62 t70 t80 quelli che aveva l'esercito di saddam quindi sì allora le immagini quindi arrivano vi passo la mappa se volete vedere ma comunque ci sono questi assalti condotti con bradley sono uno o due mezzi che arrivano rilasciano i loro uomini e quindi riescono ad ottenere dei piccoli vantaggi in altre parti del fronte però la situazione come sapete come vi ho già riportato per dovere di cronaca non è delle migliori infatti i russi avanzano a sud est curaove è praticamente ormai quasi completamente circondata la cittadina di sedi dove è ormai presa dai russi in questa zona come vedete hanno ormai ottenuto il 90 per cento 99 per cento della dell'area urbana sono presenti in tutta la cittadina tutti questi centri stanno cadendo molto velocemente quindi è presumibile pensare che entro la fine dell'anno i russi riusciranno a chiudere tutta quest'area perché in genere quello che fanno proprio muoversi a tenaglia da più fonti per poi chiudere l'area ora qui mi collego anche al video di davis davidov che parla di questo dice che attualmente le forze ucraine si stanno ridisponendo e non cercano una resistenza oltranza ma probabilmente vogliono preservare le proprie unità per combattere poi un'altra battaglia non ragionano con l'idea del tritacarne come fa la russia che può permettersi avendo un esercito molto più numeroso può ancora permettersi di ignorare le perdite quindi questa è la situazione altri video che riguardano altri mezzi questo qui ve lo metto in descrizione ma è un video molto interessante perché dimostra la resilienza di questo mezzo che è il kozak 53 che è un mezzo da trasporto blindato ma che in questo video dimostra di riuscire a resistere a tremmine su cui ci passa sopra e quindi veramente davvero impressionante qualche giorno fa vi avevo parlato questo video in cui appunto descrivevo la scena era questo btr russo pieno di uomini che letteralmente va incontro a due carri ucraini e qua siamo alla distanza di 50 metri anche meno e a questo punto il carro ucraino fa fuoco sul btr e lo c'entra in pieno dal btr poi emergono vari soldati russi alcuni cadono a terra altri scappano in più direzioni questo soldato racconta che era uno di quelli che i suoi commilitoni sono fuggiti quelli che sono sopravvissuti l'hanno lasciato lì ed è stato poi recuperato dai soldati ucraini questa è una storia altra storia è di questo prigioniero qualche giorno fa ancora vi raccontavo in realtà ve l'ho raccontato più volte l'esperienza di questi detenuti russi che finiscono al fronte in cui appunto vi avevo riportato che ai detenuti viene offerto un contratto per andare in guerra in cui gli viene detto letteralmente se ti arruoli ti abboniamo la pena non importa la pena ok quindi questa è l'idea in realtà la testimonianza di questo russo che è stato catturato e di un'altra un'altra storia lui dice di essere stato incarcerato per aver commesso furto e omicidio di un poliziotto russo e che lo hanno prelevato dalla galera l'hanno mandato al fronte dice non mi hanno proposto nessun contratto mi hanno semplicemente prelevato di forza e mandato qui dove poi sono stato catturato ad agosto a luglio il 13 luglio si è si è arruolato almeno scusate è stato mandato al fronte e poi ad agosto è finito appunto nelle mani degli ucraini questa è la sua storia passiamo avanti allora ieri vi avevo accennato al black hawk l'u h 60 americano nelle forze speciali ucraine questo elicottero particolare con capacità ogni tempo è l'elicottero che viene usato anche delle forze speciali americane per l'infiltrazione l'estrazione insomma è un bel elicottero con delle belle prestazioni fra l'altro anche vedete ieri avevo accennato alla forma delle pale questo svergolamento è tipico del black hawk perché ne riduce il rumore le forze ucraine dispongono di due di questi elicotteri in particolare le forze speciali come vedete sono questo video sono a bordo e appunto viene utilizzato dalle forze speciali ucraine da quello che ho capito e che so almeno a sentire anche qui davis davidov che è un ucraino ha un canale questi due elicotteri in realtà sono stati acquistati privatamente non sono stati dati ufficialmente dagli stati uniti nel senso e fa impressione diceva che ad oggi l'ucraina ha solo due di questi elicotteri e praticamente ne ha meno dei talebani in afghanistan che ne hanno ricevuti di più quando le forze armate americane hanno abbandonato l'afghanistan altro video strano di oggi arriva ve ne ho parlato altre volte perché avevo visto dei nei centri di addestramento russi le tattiche per evadere i droni che colpiscono i soldati quindi generalmente si fa un po di esercitazione al tiro anche se bisogna dirlo colpire un drone con un fucile d'assalto non è semplice cioè sarebbe molto più semplice se avessero dei fucili da caccia che sparano pallini pallettoni quello che creano che creano una rosa colpire un drone in movimento con un fucile d'assalto non è uno che cioè non è facile quindi la tattica che imparano oltre a cercare di sparare a un oggetto movimento così veloce è quella poi di fare delle capriole quando arriva al punto di impatto oppure credetemi questo l'ho visto anche nei centri di addestramento l'ultima risorsa è lanciare il fucile contro il drone ora in tutti i video che ho visto e ne ho visto purtroppo ne ho visti troppi tutte le volte che un soldato russo lancia un fucile contro un drone non finisce bene tutte le volte che un soldato russo fa una capriola o si lancia per terra non finisce comunque bene perché insomma questi droni trasportano delle cariche anti uomo poi arriviamo al paradossale al surreale questo non è il primo video che ho visto di questo tipo in cui il soldato russo cosa fa lo prende con le mani e questa cosa non finisce bene non è la prima volta che lo vedo succedere addirittura in un altro video un tizio che corre lo prende al volo continua a correre al momento durante la corsa il drone non fa nulla però un certo punto il soldato russo dice vabbè lo butto e lo butta e quello esplode e quindi finisce così la sua avventura queste sono storie altre storie paradossali arrivano come sempre da parte russa in questo video che non vi posso mostrare vi lascio il link in descrizione ci sono due carri russi ok uno è qui e l'altro è qui bene come devo dire questo ecco un altro esempio di lancio della torretta la cosa particolare è che sono due lanci di torrette il primo fa impressione secondo molto di più abbiamo proprio un lancio di decine di metri del primo è almeno una cinquantina di metri verso l'alto del secondo quindi sì un record per concludere notizie che arrivano dalla crimea da confermare questo vedrò appunto di confermarlo domani e dopo domani quando arriveranno notizie più dettagliate però questa è già un'immagine satellitare dove si vede in crimea che l'artiglieria almeno delle tutti questi forellini indicano i colpi di afframmentazione ha colpito una postazione s 300 quindi gli ucraini hanno preso una postazione s 300 con attacimi 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 s s 300 o s 400 quindi questo è e per oggi è tutto un video breve oggi come sempre fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate vi raccomando questo film che è divertente oltre che mostrarvi in retroscena in chiave comica dello sviluppo del Bradley il film è The Pentagon Wars penso che si trovi abbastanza facilmente e niente questo è quanto come sempre un abbraccio alla prossima grazie a tutti